L'ex fidanzata di Damiano David, si avventura in una serie di uscite contro Berlusconi, e viene travolta dalle critiche. Giorgia Soleri, ormai ex fidanzata poliamorosa di Damiano David dei Maneskin, sicuramente ha ben compreso come attirare l'attenzione su di sé. Se tutti dicono a, qualcuno che dice Z fa senza dubbio notizia. E non importa che Z possa essere fuori luogo, basta dirlo e il gioco è fatto. Forse ha imparato da Silvio Berlusconi a cui viene attribuita la celebre frase, bene o male non importa, purché se ne parli. E dunque ecco che l'influencer poetessa. A pochi minuti dalla notizia della morte del leader di Forza Italia, tra le sue stories Instagram, ha pensato di far apparire una serie di foto in cui ha lasciato trapelare il suo dissenso per come la stampa italiana sta trattandola di partita dell'imprenditore milanese. Va da sé che abbia lasciato emergere anche tutta la sua mancanza di stima nei confronti del CAV. Non un reato, ma ogni considerazione dovrebbe rispettare un timing di buon senso. Ma si proceda con ordine. L'uomo che ha distrutto il paese. Questo il titolo scelto dall'agenzia, Info Submarine, è riportato da Giorgia Soleri. Non è finita qui. L'influencer ha anche riportato uno stralcio di un articolo della BBC che recita così. L'ex premier italiano, che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni. Infine un ragionamento fatto con un utente. Sento già riecheggiare, ma ha fatto anche cose buone. Insomma, si è ben compreso il pensiero della Soleri. Che però, è evidente, che non abbia afferrato alcuni concetti.